musica ora che ho la vostra attenzione prima che mi scriviate eh Turi ma sei cambiato perchè al metodo Turi ma so... ma so che mi ha tradito tutti i valori umanali Se qui ho fondato il mio metodo Sono falliti nell'istante In cui ho sganciato dei soldi Ma bisogna vedere il perché Gli ho dati quei soldi va bene Arrivavo da dei giorni molto pesanti Arrivavo ok Perché nella live di sabato mi aveva fatto incazzare Alla partita di basket che ho avuto sabato Abbiamo giocato contro dei fraidi E noi siamo stati ancora più fraidi Che abbiamo perso Sono dei giorni pesanti questi Oh e loro ho voluto fare come le fighe Presente quelle lì del film che vanno in giro Con le borsine Avevo bisogno di spendere Avevo bisogno di fare shopping Su FIFA per una volta Una volta nella vita Mi posso cavare un vizio? Mi lo posso cavare un vizio? Va bene? Il metodo Turi bisogna applicarlo Dopo questo pack opening ancora maggiormente Ma questo lo vedete tra poco Detto ciò L'ultimo big annuncio E qui vi voglio con la rabbia nei denti Dove ci iniziare a sbavare come i draghi Perché qui sabato ho programmato non un evento Non un food champions Il food champions Perché sabato faremo un food champions spettacolare su Twitch Ogni sub mi darà un blocco di 10 secondi Cioè io sto giocando Se fate la sub non posso muovermi i miei giocatori per 10 secondi Altrimenti ogni euro donato è un secondo di fermo Però dov'è il divertimento? Il divertimento è Proprio in questo secondo qui che voi state guardando il video Su Instagram Già è uscita una scheda dove voi dovrete proporre Le penitenze Che dovrò fare Nel caso in cui quella partita lì La perdo Chiaramente mi potete scrivere Amputati un braccio Non la scelglierò quella penitenza E adesso guardatevi quanto fa schifo questo videogioco Anche se voi gli date dei soldi Uno pensa che magari dannogli dei soldi Qualcosa ti fanno trovare Ma guardate quello Guardate Carico 100 euro E mi prendo quei 6 pacchetti lì da 100k Trovo qualcuno bene Spero almeno di trovare dei walkout Se non troviamo dei walkout Neanche un walkout Allora ci salutiamo Momento storico Devo prendere quello lì pulito da 100 euro Apri il pack d'argento Che tiri su più credit Spendo 100 euro E prendo gli argento Vai appunto con 100 euro E prendi quella brutta Senza denti Allora per la prima volta In my life Quindi Useremo Dei fifa points Daremo questo centello All'iei Posso Una volta In 365 giorni Usarli Il metodo turi È il mio metodo E sarà il metodo che porterò avanti Per la mia vita intera Ma oggi Ho bisogno Di fare Shopping Cosa ce li portiamo? Nella tomba Questi c***o di soldi Primo Fottuto Pacchetto Ti prego Yei walkout Ti prego Yei walkout Però Non ci scoraggiamo Questo lo dedico A tutti I sub Ragazzi Allora è un vizio Quello di fare sboccare FIFA Ce l'hai Yeeeh Spero che siano walkout Questo Già mi piace di più Mi piace E siamo arrivati All'ultimo Questo Che lo do doppio Questo Che lo do doppio Questo È il motivo Per cui Voi E io Non dovremo Mai più dare Un euro A questo gioco Dobbiamo fare Un patto Tutti assieme Voglio Le vostre mani qua Che mi stringono Ok Prendiamo per mano Tutti assieme E ce lo promettiamo Che non daremo Mai più Un euro All'yei Mai spesi io Cento euro Mai spesi Cento euro In FIFA Mai 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 Pesi Cento euro In FIFA E mai più Li spenderò Devo dimmi la metà Ho un po' Paura Sono fiducioso Oggi Nel Vedete Vi sorprenderò Oggi Avrò così Tanta calma In corpo Che direte Ma questo Non è Turi Dai fai gol La prima Il pomeriggio C'è un gameplay Che fa Sboccare Le ocche Guardati Sono Guarda Che faccia Da imbe Con quegli occhietti Bel Te non vedi Manco Dov'è la porta Ciao in squadra Il giocatore Più brutto Che abbia mai visto Perché Cruif Baby Sembra un emo Scemo Degli anni 2010 Quelli che si tagliavano Nei polsi Per sentirsi meglio Ti faccio il cross Il mi babbo Il mi babbo Che è sul divano Tiro da davanti Alla porta Non faccio mai Gol Mai 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 La mia vita Qua sono stupido Voglio dichiarare al mondo Di essere stupido Un cazzo di stupido Mi merito i cazzotti Qua Grazie FIFA Grazie FIFA Che c'hai sti errori Schifosi Buttala via Buttala No Pensavo fossimo già Il 122esimo Godo Bel Sono di Rimini La città dove c'è La passerina D'estate c'è tanta passerina Rimini Per chi volesse venire Nel caso Rimini d'estate Io ve lo dico Perché io Ho l'amorosa Della passerina Non la posso guardare Apri la tuta Apri la Accendi Il nos Ragazzi Ma che conto Ma cosa stanno facendo I miei Oh Sul secondo palo lì Ma come l'ho presa Ma come l'ho presa Primo palo Fraido Rushmore Ma perché ti sei messo a fare i voli Mi sembri Ma chi sei Al circo di Moria Orfei Sei E del fuoco in chat E del fuoco Fulmini Saete Non so che emoticon ci sono Questo è il tiro brutto di Mbappé Il tiro brutto di Mbappé Ho visto che è lì pronto Eri lì pronto Eri lì pronto Ve lo dissi Ve lo dicesti Ve lo dirissi Mettete le morti con cariche Subito gol Tac Questa c'è la squadra Fino adesso Che ho incontrato Più scarsa Molto probabilmente Questo qui Me ne darà Uno scatafascio Ecco Neanche a dirlo Neanche a dirlo Ecco Questa mi sembra La fotocopia Della partita di prima Che quello fa Tre tiri Tre gol E io prendo i pali I pali Da più avanti alla porta Porco il palo Pali Io prendo i pali Ho preso un palo Palo Godo Godo Basta con sti pali Basta Vabbè ma noi Non premiamo Il bel gioco Ehi Faze Si Ma come vuoi Non fischiare Sta roba Spiegatemi voi Come tirare Contro di questo Guardate qui Che partita Spiegatemi voi Come fai La quest Come faccio Sono davanti alla porta Questa rigore la perde Ve lo dico Dove l'ha presa Mai lo conosco Sto cazzo di gioco Oggi cercherò di stare Anche più calmo Guardate che gioco Guardate che gioco di merda Prima ci ho messo 120 minuti Adesso il primo tiro Primo gol Eh bisogna fargli gol Se facciamo gol Questo quita Se facciamo gol Questo quita Ma lo sento Si Rashford Si Rashford Si Rashford Si Rashford Mi raccomando ragazzi Entrate su Discord C'è sempre qui sotto Nei link Ma cos'è? Ma cos'è? Ma cos'è? Ma che colpo è? Ma Kanté Ma che colpo di testa Ma ti lamenti Kanté Ma ti lamenti Ma cosa fai? Ma cosa fai? Stai muto Stai muto Pussa via Pussa via Pussa via Bravo Scus DOUG E' già одним Non è molto Non è molto Ma che turc Mefinder 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 Me�� Mefinder così basso non puoi queste rigore ragazzi ma lo indirizzato a sinistra ma indirizzato a sinistra perché diri centrale questo è uguale ma cosa fa De Gea ma cosa fa De Gea se stava fermo la parava giusto giusto sbaglio i rigori sbaglio i devo perdere questo adesso fa anche il secondo gol questo è il risultato credo che un risultato migliore di questo non ci sia oggi cercherò di stare anche più calmo